in compagnia di andrea bernauto anche lui che è già stato nostro ospite nelle interviste nelle occasioni in cui si è riunito il cantiere anche altre volte seminari di politica parliamo con lui ovviamente del suo intervento che argomenti ha toccato ma noi abbiamo cercato di dimostrare come l'italicum sia una cattiva legge elettorale quindi abbiamo cercato soltanto di farlo sulla base dei dati che emergono da questa legge che se volete posso riassumere insomma breve il mio intervento questa è una legge che vale soltanto per la camera dei deputati quindi non è una legge che vale per il senato quindi qui c'è tutto l'atteggiamento che al di là dell'atteggiamento pagato del ministro Boschi o del suo capo di gabinetto che oggi ha partecipato al dibattito Roberto Cerreto evidenzia invece l'arroganza e la iattanza di Renzi che ha fatto votare mettendo la fiducia quindi una cosa che non si era mai vista nel nostro paese una legge elettorale posticipando la sua applicazione a luglio del 2016 in realtà lui ha scommesso sulla riforma istituzionale cioè il ragionamento che ha fatto Renzi sulla pelle degli italiani è questo noi facciamo questa legge che vale solo per la camera dei deputati ma potrà quindi entrare in vigore soltanto se passa da riforma del senato la domanda è se non passa la riforma del senato cosa succede prima domanda seconda domanda e se il governo dovesse cadere domani mattina con quale legge elettorale andiamo a votare non hanno fatto neanche una norma transitoria quindi al di là dei toni pacati che abbiamo sentito stasera questa è una legge che è stata portata avanti in modo prepotente arrogante attraverso un moral hazard direbbero gli inglesi in sintesi io faccio le riforme sulla pelle degli italiani se domani cado questo paese non ha una riforma elettorale questo è il primo vulnus gravissimo di Betodo con il quale è stata portata avanti questa legge poi ce ne sono altri ad esempio si è fatto molto rumore sul radicamento dell'eletto col territorio e noi oggi abbiamo una legge elettorale che fa collegi di 600 mila persone 100 collegi di 600 mila persone quindi cade fatalmente il ragionamento legato al collegio perché un collegio è valido se è un collegio piccolo con il mattarellum il collegio a Roma comprendeva due due quartieri di Roma adesso un collegio 600 mila persone si capisce quanto possono essere eterogeni e quanto il candidato non possa essere l'eletto non possa essere radicato sul collega ma in più siccome il riparto viene fatto a livello nazionale quindi in realtà l'elezione del singolo eletto con le con le preferenze o anche quello bloccato dal partito in realtà non avrà sempre una sua conferma in quello che è successo nel singolo collegio perché il riparto dei seggi non avviene su base collegiale ma su base nazionale questo è stato fatto perché questo è stato fatto per salvaguardare Alfano il quale se il riparto dei seggi fosse avvenuto a livello nazionale semplicemente l'NCD sarebbe scomparso dal Parlamento per evitare questo aspetto sul quale Alfano si è giustamente impuntato perché di fronte alla morte chiaramente politica c'è stata una reazione violentissima fino a minacciare la caduta del governo è chiaro che si è arrivati alla percentuale del 3% per accedere in Parlamento e al riparto nazionale perché chiaramente se tu fai il riparto sulla base di un collegio 600.000 persone l'NCD non potrà mai competere e vincere in quel collegio se tu fai il riparto a livello nazionale con la soglia del 3% qualche deputato l'NCD lo prenderà e non solo lui ma tutti gli altri cespugli che questa legge e Renzi poi lo ha detto più volte che avrebbe eliminato cespugli il potere di ricatto dei partiti verrà mantenuto il che è tradotto vuol dire che questa legge nasce dal ricatto dei piccoli partiti non elimina il ricatto dei piccoli partiti ci sono tanti altri se mi permetto visto la tua schiettezza che penso che debba essere ricambiata una schiettezza insomma anche degna dell'intervista in genere allora a parte che queste fronde di cui tu dici che insomma hanno chiesto insomma dato l'andazzo sembra che poi fronde non sia soltanto c'è il rischio che siano anche altri partiti che sostengono e che soprattutto fino a ieri hanno scritto insieme a Renzi questa legge parliamo di Forza Italia allora queste critiche vanno anche a chi è collaborato nella redazione di questa legge allora io personalmente ho raccolto le firme per il referendum del 93 sul maggioritario sull'innominale per la riforma del sistema presidenziale americano a turno unico secco semplice così come l'83 per cento degli italiani avrebbe voluto 22 anni fa si disse che il nostro paese non era maturo per avere un sistema di tipo americano bene io credo che il corpo elettorale si sia mostrato a più riprese molto più maturo e molto più avanti della classe politica che ha preteso di rappresentarlo e che in più occasioni non solo ha tradito quel referendum ma ha riportato di nuovo in Italia il sistema proporzionale ha riportato le preferenze via via imbastardendo quella volontà popolare arrivando oggi a un unitalicum che è il rimpasto del peggio cioè noi abbiamo le preferenze rimesse dentro un'altra volta però soltanto per i grandi partiti perché i piccoli esprimeranno soltanto i capilista attraverso la nomina abbiamo di nuovi collegi però messi in modo diverso da come dovrebbero essere messi 600.000 persone quindi in sintesi non abbiamo un tradimento effettivo di quello che fu quel successo straordinario del 1993 di quel referendum abbiamo un sistema elettorale che non ha non ha diciamo nessun tipo di paragone con gli altri infatti si chiama italicum perché è talmente arzigogolato che nessun altro paese lo ha adottato in passato e la cosa allucinante che voglio qui sottolineare è questa è stato fatto sicuramente un errore da parte del di forza italia perché questa legge poteva anche convenire da un punto di vista di realpolitik se si fosse sicuri che al ballottaggio andasse il pd e un centrodestra unito però avendo eliminato le coalizioni avendo stabilito il premio sulla lista le possibilità che oggi possa arrivare al ballottaggio una coalizione centrodestra in questo momento non ci sono quindi c'è il serio rischio rischio che rebus quistantibus a meno che non ci sarà la costruzione davvero del partito repubblicano che ha auspicato Berlusconi al ballottaggio vadano Renzi e Grillo e tradotto essendoci un'ipotese in un'ipotese del genere nessuno può scongiurare la possibilità in un paese animato tra l'odio tra le due coalizioni centrodestra e centrosinistra che gli elettori del centrodestra che al primo turno avevano votato per i partiti per la galassia del centrodestra possano trovarsi al secondo turno a votare per dispetto per Grillo e così grazie all'Italicum ci troveremo governati dal Movimento 5 Stelle ecco il rischio serio per la democrazia per chi ovviamente pensa che le ricette di Grillo siano assolutamente fuori dalla realtà e fuori da qualsiasi umana comprensione quantomeno dal punto di vista dei liberali. Perfetto su Liber TV sentiamo tutte le opinioni grazie a Andrea Bernardo che ci ha dato questa visione diciamo brunettiana così possiamo dire. No guardi e purtroppo io non sono imitatore di nessuno l'analisi che vi ho fatto no no l'analisi che vi ho fatto deriva dall'analisi scientifica del testo quindi ed è inconfutabile l'ho detta lì nessun professore ha provato a smontarla perché è basata sul testo della legge. Grazie Andrea Bernardo. Grazie a voi.